Per la prima volta in questa campagna elettorale democratica c'è questo senso di possibilità. Possibilità non significa che funzionerà, ma c'è un senso di possibilità. Si può, potrebbe, potrebbe vincere, potrebbe farcela. Mentre invece c'era il senso che Biden non ce l'avrebbe fatta, che quell'elezione era già persa nel momento in cui era un Biden contro Trump. Ok, le due settimane pazzesche della politica americana che avevamo raccontato nella scorsa puntata di Globo sono diventate tre. E si è reso necessario fare un'altra puntata americana perché, lo avete visto, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è ritirato dalle elezioni presidenziali di novembre. Quello di Biden è un gesto storico. Nessun presidente in carica e in corsa per la rielezione si era mai ritirato così avanti nella campagna elettorale. L'ultimo precedente è stato quello di Lyndon Johnson, che si ritirò nel 1968, ma lo fece a marzo e con moltissimo anticipo rispetto ai tempi di cui stiamo parlando adesso. Ritirandosi, Biden ha offerto il suo endorsement, cioè il suo appoggio esplicito, alla vicepresidente Kamala Harris. Non era un atto scontato. Biden avrebbe potuto evitare di fare endorsement e lasciare che fosse la competizione interna al Partito Democratico a decidere il suo successore. Invece, con l'appoggio a Harris, tutti i pezzi del puzzle sono andati a posto molto rapidamente. In poche ore, letteralmente in poche ore, il partito si è compattato dietro di lei. E oggi possiamo dire con ragionevole certezza che Kamala Harris sfiderà Donald Trump alle elezioni presidenziali, a meno di grossissime sorprese alla convention di agosto. E quindi oggi dedichiamo una puntata proprio a lei, a Kamala Harris. Cercheremo di capire chi è, che candidata potrebbe essere e perfino che presidente potrebbe diventare. Lo faremo raccontando la sua vita, che è stata molto interessante. Figlia di un padre giamaicano e di una madre indiana, Harris è stata procuratrice di San Francisco e procuratrice generale della California. Due ruoli giudiziari che negli Stati Uniti sono cariche elettive, in cui si è presentata come una personalità dura contro il crimine, ma favorevole alla riforma del sistema giudiziario. Vedremo che quella di procuratrice, cioè di pubblica ministera, è una fase importante della carriera di Harris, che ancora oggi determina la sua identità. Poi Harris è stata eletta senatrice negli Stati Uniti e nel 2019 si è candidata alle primarie del Partito Democratico quelle che furono poi vinte, da Joe Biden. Fallì piuttosto miseramente, ma fu ripescata come vicepresidente. Da allora su di lei si sono accumulati molti dubbi, sulla sua efficacia di governo, sulla sua identità politica, sulla saldezza del suo messaggio. Nei prossimi cento giorni di campagna elettorale, Kamala Harris dovrà provare a dissiparli e valorizzare invece i suoi punti di forza. Perché forse pochi, come un'ex procuratrice, sono adatti a sfidare un pregiudicato come Donald Trump. Per questo a Globo abbiamo parlato con Viviana Mazza, corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti, che sta seguendo passo passo questa folle e interessante campagna elettorale. Con Viviana Mazza parleremo della storia e delle idee di Harris, cercheremo di decifrare il suo percorso e poi sì, ci faremo la domanda che tutti si stanno facendo e che tutti ci stiamo facendo. Davvero Kamala Harris può battere Donald Trump? Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Viviana Mazza, benvenuta. Grazie. Allora, dopo il ritiro di Joe Biden, le cose si sono mosse davvero, davvero velocemente. Joe Biden si è ritirato domenica sera, ora italiana diciamo, e nel giro di davvero poco più di 24 ore, lunedì notte, per cui appunto 30 ore diciamo, mettiamo 30 ore, Kamala Harris era già di fatto la candidata in pectore del Partito Democratico. Ovviamente manca ancora l'ufficialità perché ci deve essere il voto dei delegati, però diciamo che al 99%, a meno che non succedano davvero degli sfracegli, dei disastri belli grossi, diciamo così, Kamala Harris sfiderà Donald Trump alle elezioni di novembre. Sono successe davvero tante cose in 24 ore. Tra domenica e lunedì Kamala Harris ha ottenuto l'endorsement di tantissimi esponenti del Partito Democratico, anche importanti. Ha ricevuto un record di finanziamenti in 24 ore, più di 80 milioni di dollari di donazioni, anche da piccoli donatori, e appunto ha ricevuto il sostegno implicito della maggioranza dei delegati. Vorrei chiederti quindi anzitutto che cosa è successo in queste 24 ore e se puoi iniziare a raccontarci i primi passi di questa campagna elettorale di Kamala Harris. Ovviamente è molto presto ancora per dirlo, però ci puoi raccontare magari quali sono i temi principali su cui lei ha iniziato ad attaccare Donald Trump e insomma quali sono i primi indizi che magari ci fanno capire come potrebbe andare. Kamala Harris ha subito chiarito quale sarà la sua strategia contro Trump, l'ex procuratrice contro il criminale. Nel primo discorso che ha fatto la campagna elettorale, già il giorno dopo, 24 ore dopo il ritiro della corsa di Biden, ha detto ho battuto predatori sessuali e truffatori come procuratrice e so benissimo che tipo di persona è Donald Trump. E questo sarà uno dei temi su cui batterà la sua campagna elettorale. Ha anche parlato dei diritti, in particolare il diritto alle scelte delle donne sull'aborto, i diritti riproduttivi delle donne e anche questa è una tematica che è stata centrale nella campagna Biden-Harris e su cui lei in particolare, ancora più di Biden, è stata schierata con una serie di eventi in molti stati per molti mesi. E' uno dei temi che dopo l'abolizione da parte della Corte Suprema e della sentenza Roe v. Wade e quindi della perdita del diritto federale all'aborto, passando ai singoli stati, questo nel diritto all'aborto è diventato un tema fortissimo per i democratici, al punto che Donald Trump ha preferito evitare anche nella piattaforma riferimenti ad un, per esempio, ad un biglietto nazionale, ad un, diciamo che è qualcosa che sull'aborto i gruppi più conservatori vorrebbero, ma è un tema molto impopolare, quindi i democratici sperano di poterci puntare. Quindi Kamala Harris ha iniziato, potremmo dire, alla grande, e semplicemente un giorno dopo ha già conquistato tutti i delegati, almeno la boccia, insomma, che si impegnano a votare per lei, i delegati di Biden che dovranno sostanzialmente in questo roll call, in questo voto che sarà fatto virtualmente nei prossimi giorni, dovrebbero appunto scegliere lei come candidata del Partito Democratico alla Casa Bianca. Tutti quanti i suoi rivali si sono rapidamente schierati dietro di lei, hanno dichiarato che non intendevano correre contro di lei. La scelta, semmai, è quella di un vice. Ha ottenuto subito l'approvazione anche di personaggi cruciali, come Nancy Pelosi, l'ex speaker della Camera, perché lei è, diciamo, una forza dell'altura della raccolta fondi del partito ed è rimasta potentissima, tant'è che è lei che poi ha guidato anche la spinta per Joe Biden perché effettivamente si ritirasse dalla corsa. Pelosi, che inizialmente sembrava più favorevole ad un processo aperto, competitivo, o almeno diceva così, forse soltanto anche per rassicurare quanti temono che altrimenti ci sarebbe stata un'incoronazione di Kamala Harris, nel momento in cui poi, dopo l'endorsement di Biden, tutti naturalmente si sono schierati insieme a Kamala, anche lei ha dato la sua benedizione con un endorsement definito personale, oltre che politico, e adesso appunto c'è l'attesa che anche Obama, come ha detto il suo ex manager della campagna elettorale David Axelrod, a un certo punto di all endorsement. L'ho dato anche George Clooney, che per esempio aveva chiesto a Joe Biden ritirarsi, l'ho dato pop star, come la cantante Charlie, che ha creato anche una sorta di meme ormai riutilizzato dalla campagna di Kamala Harris, segno che anche per quanto riguarda i più giovani c'è un tentativo di rimodulare questa campagna elettorale in modo moderno, cosa possibile grazie al fatto che abbiamo una candidata di 59 anni che adesso è la più giovane, mentre invece Trump è il candidato più vecchio. Certo, è ancora una campagna in salita e Kamala Harris dovrà dimostrare moltissimo davanti a sé un compito enorme e Trump è in campagna elettorale già da molto più tempo, non ha forse mai smesso da quando è andato via dalla Casa Bianca di fare campagna elettorale, lei invece come vicepresidente non ha ricevuto grande approvazione per il modo in cui ha svolto il suo mandato, è stata anche spesso criticata e non si sa fino a che punto le sue capacità politiche, oltre che sicuramente la capacità dell'intero partito di appoggiarla, potranno effettivamente spingerla e potranno effettivamente portarla alla vittoria, ma sicuramente ha un'opportunità e c'è un senso di possibilità nuovo, perché sostanzialmente dopo mesi di sconforto che poi si era acuito enormemente nelle ultime tre settimane dopo il dibattito tra Trump e Biden, adesso nel partito democratico c'è effettivamente nelle ultime ore un senso di possibilità di poter vincere effettivamente a novembre, non è detto che ce la faranno ma c'è questo senso di possibilità e loro sono stati effettivamente democratici anche se lo hanno fatto a cento giorni delle elezioni, il partito che ha ascoltato in qualche modo gli elettori che chiedevano un candidato che non fosse né Biden né Trump, hanno messo quest'altra candidata, una candidata che era forse inevitabile dal momento che ormai a cento giorni del voto non potevano davvero fare delle primarie blitz che avrebbero rischiato di dividere il partito, di non creare un messaggio solido, di scegliere qualcuno che non aveva esperienza anche presidenziale, Kamala Harris comunque è da tre anni e mezzo che al fianco di Biden lavora sia sulla politica interna anche sulla politica estera, per cui alla fine la scelta di Kamala Harris era naturale. Adesso appunto però questo tentativo dei democratici di sfidare Trump che negli ultimi giorni sembra aver dimostrato un vento in poppa dovrà essere appunto testato sul terreno. Senti, proviamo ad arrivare appunto al cuore di questo podcast che è quello di raccontare, di capire chi è Kamala Harris anche almeno in parte ripercorrendo la sua storia e la sua vicenda biografica. Cominciamo appunto dall'inizio. Se tu sei d'accordo vorrei chiederti se ci puoi raccontare che cosa ha fatto Kamala Harris prima di diventare una politica di livello nazionale, quindi prima di diventare senatrice e vicepresidente. Insomma, l'inizio della sua carriera. Sì, lei è stata procuratrice prima di San Francisco e poi della California e questo si ricollega un pochino sull'essere moderata oppure all'essere più progressista perché quando ha corso come procuratrice di San Francisco per esempio lei criticò il suo predecessore, era il 2003-2004 dicendo che era troppo progressista e idealista lui e quando si è presentata per la candidatura nelle primarie democratiche invece ha cambiato completamente il modo di presentarsi. Lei era una che puntava molto sull'importanza della lotta al crimine e insomma a un certo punto in me c'è stato questo contrasto molto forte perché in campagna elettorale del 2020 diceva anche cose come insomma date dei fondi, a chi è finito in carcere per delle proteste anche violente e ha detto a Joe Biden sostanzialmente in quel famoso dibattito Presidente Joe Biden è come una sorta di razzista. Quindi sì, il mondo passato di Kamala Harris è sicuramente in contrasto con quello che vediamo adesso. Lei ha anche questo doppio background di origini sia indiane che anche nere ed è stato difficile in qualche modo per il gruppo degli afro, non degli elettori ma all'interno del partito, di accettarla quando lei cercava di presentarsi come appunto una donna nera che correva per la nomination e quindi secondo me questo background multietnico e queste origini multietniche non sempre ne hanno giovato come avrebbero potuto politicamente. Cioè secondo me è interessante vedere come adesso le userà perché e anche come si presenta e si ripresenta agli elettori perché per esempio in questo suo primo discorso che ha fatto la candidata non ha parlato del background multietnico, non ha parlato forse anche in quanto vicepresidente in carica non ha sentito di dover parlare di sé da quel punto di vista ma ha puntato proprio sul passato di ex procuratrice e di quello che ha parlato praticamente esclusivamente perché secondo me lo sta riconfigurando in chiave anti-Trump e quella sarà il tasso su cui batterà moltissimo. Questo nodo che tu hai sollevato, questa contraddizione anche sotto certi punti di vista fra il background, il passato di Kamala Harris da procuratrice soprattutto in California, ricordiamo peraltro che i procuratori negli Stati Uniti hanno una carica elettiva per cui diciamo che il loro ruolo è certamente giudiziario perché sono quelli che avviano i procedimenti legali ma sono anche dei politici sotto certi punti di vista a tutti gli effetti. Appunto dicevamo una contraddizione fra il background da procuratrice di Kamala Harris in California, prima a San Francisco, poi nella procura generale della California e per così dire le sue origini, la sua storia personale, il fatto che lei a un certo punto ha cercato di cambiare il suo messaggio politico quando è entrata nella politica nazionale in un senso più progressista, in un senso anche più adatto a quella che era la temperie del tempo con Black Lives Matter e così via. Kamala Harris ha passato il grosso della sua carriera, almeno all'inizio, a presentarsi come una procuratrice implacabile, dura contro il crimine ma anche capace di essere a favore delle riforme giudiziarie. E poi però a un certo punto, quando questo ruolo, anche un po' da sbirra per certi versi, una cosa che si dice, Kamala Harris non era tanto amata dalla sinistra del Partito Democratico, quando questo ruolo le è diventato un po' complicato da sostenere appunto perché il Partito Democratico si stava spostando a sinistra, si stava spostando su altri temi, su altri valori, anche lei ha cambiato politica e ha iniziato a concentrarsi molto di più sulla sua storia personale, sul fatto che in tante volte nel corso della sua carriera è stata la prima donna nera. Io mi sono tirato giù alcuni elementi appunto della sua carriera. Harris fu eletta nel 2002 procuratrice della città di San Francisco ed è stata la prima donna e la prima persona nera a ottenere l'incarico. Poi nel 2011 è stata eletta procuratrice generale di tutta la California e ancora una volta prima donna e prima donna nera. Nel 2016 è eletta al Senato degli Stati Uniti, seconda donna nera ma prima donna con origini dall'Asia meridionale perché appunto sua madre è indiana. Per l'ennesima volta da vicepresidente è stata la prima donna e la prima persona nera a ricoprire l'incarico e in caso di conferma della nomination sarà la prima donna nera a ottenerla. Quindi diciamo che la storia personale di Kamala Harris la potrebbe rendere la perfetta portabandiera dei valori di inclusività, dei valori multietnici che vuole rappresentare il Partito Democratico. E però per Kamala Harris, questa è una cosa che dicono tante persone che l'hanno conosciuta, tante persone che hanno scritto a proposito di lei, non si sente portabandiera di questi valori o almeno si sente portabandiera di questi valori ma il ruolo in cui lei si sente maggiormente a suo agio è sempre stato quello di procuratrice. E anche nella sua carriera politica il ruolo in cui ha brillato di più quando ha potuto per esempio nelle udienze pubbliche al Senato e così via è stato quando ha potuto fare la procuratrice, quando ha potuto interrogare, quando ha potuto mostrarsi implacabile. E quindi molto spesso si dice che Kamala Harris si trovi in una specie di bivio identitario, no? Perché da un lato lei si sente una procuratrice e dall'altro teme che il Partito Democratico non voglia accettare questo suo ruolo da procuratrice e la preferisca in questa figura di, appunto, aperte virgolette, prima donna nera, chiuse virgolette. Ci puoi appunto raccontare questa strana, interessante contraddizione? Sì, più che nel passato mi piacerebbe parlarne nel presente perché è esattamente quello che ho notato quando lei ha parlato alla campagna elettorale in questo suo primo discorso e ai sostenitori. Era come se cercasse di essere se stessa più di quanto non lo è stata in passato. C'era alle sue spalle questo cartello con il nome Kamala e viene in mente Hillary e la corsa di Hillary. Hillary Clinton è stata una delle prime persone che le ha dato l'endorsement subito dopo il ritiro di Biden quando appunto è subito dopo Biden. però nel discorso che ha fatto Kamala Harris e anche quando suo marito l'ha presentata e ha detto io sono orgoglioso di aiutare mia moglie a cercare di diventare presidente non ha detto la prima presidente donna degli Stati Uniti e lei non l'ha detto nemmeno. Cioè ha parlato dei diritti riproduttivi del donna ha parlato delle libertà ha parlato delle libertà accennando anche alla lotta dei diritti civili per il diritto dei neri a votare e quindi ha parlato di quelli che sono i diritti per cui si vuole combattere ma non di se stessa come una che vuole arrivare a rompere il soffitto di cristallo infrangere il soffitto di cristallo come si faceva ai tempi di Hillary Clinton. Cioè secondo me il voto delle donne sarà un voto importante anche in questa campagna elettorale e sicuramente Donald Trump ha un problema da quel punto di vista o potrebbe averlo però il modo in cui decideranno di giocare il fatto che lei è la donna e potrebbe essere la prima donna presidente secondo me c'è una certa cautela una volontà di focalizzarsi non sulle questioni identitarie che comunque hanno spaccato anche la sinistra perché tra moderati che pensano che si è troppo puntato su quello anziché su appunto i contenuti e i risultati cioè secondo me anche questo primo discorso in cui questi elementi c'erano tutti voglio dire e però allo stesso tempo non venivano proprio esplicitati non si puntava soltanto su quelli si puntava su altro si puntava su quello che si vuole portare a casa alla fine per gli elettori quello che la gente vuole e non quello che vuoi tu perché così diventi la prima presidente donna io questa sensazione l'ho avuta quando l'ho sentita parlare poi vedremo chiaramente come dicevo prima è difficile parlare di una campagna quando sono passate 24 ore dal suo inizio però sicuramente questo combacia con quello che tu hai appena detto su come viene raccontata lei da ex procuratrice e da questo il fatto che lei si identifica in quel modo forse forse perché ancora è troppo presto per dirlo qualcosa ha imparato dai suoi errori ecco qualcosa ha imparato da che cosa succede quando fingi di essere qualcun altro o non la gente non sa più chi sei cioè crei solo confusione quindi meglio cercare di fare una campagna basata su qualcosa appunto di più solido ecco qualcosa di più chiaro con un messaggio più chiaro però appunto questo lo vedremo pian piano Riprendiamo la vicenda di Kamala Harris abbiamo raccontato come Harris procuratrice della California negli anni 2000-2010 viene poi eletta nel 2016 al Senato degli Stati Uniti e nel 2019 si candida alle primarie del Partito Democratico per le elezioni presidenziali del 2020 quelle che poi sono state vinte da Joe Biden Harris comincia la campagna elettorale per le primarie è fortissimo è una delle favorite per la vittoria finale è considerata una frontrunner tante persone dicono che potrebbe diventare il nuovo volto del Partito Democratico stiamo appunto parlando del 2019 qualche anno fa ma in realtà in pochissimo tempo la sua campagna elettorale si sgretola lei finisce i soldi e lei che doveva arrivare alla fine delle primarie doveva essere fra i contender finali invece è una delle prime a ritirarsi si ritira prima del voto in Iowa per cui di fatto lei non ha fatto le primarie ha fatto un pezzettino di campagna elettorale poi le si è sgretolato tutto attorno ci puoi raccontare che cosa successe? Sì, successe che appunto come hai descritto tu si sgretola? si sgretola perché non c'era una campagna ben organizzata non c'era una struttura ben organizzata ci sono state poi mille voci mille litigi interni per cui anche chi magari lavorava con lei che ha fatto filtrare cose su di lei che lei insomma che era colpa sua sostanzialmente ci sono stati anche problemi se ricordi a un certo punto quando lei è diventata vicepresidente tra il suo staff e lo staff di Biden c'erano a volte degli screzi quindi questo sicuramente è un problema che l'ha accompagnata nel tempo non ti so dire quale sia la verità però è un problema che c'è stato infatti secondo me una cosa fondamentale anche di questo primo discorso che c'è stato quando Biden ha rotto il silenzio collegandosi al telefono in viva voce per passare il testimone a Kamala Harris a questa campagna elettorale a questo staff che era lo staff di Biden che adesso diventa lo staff che invece è al servizio delle lezioni di un'altra persona c'è stato questo senso di loro hanno detto one team one fight un unico team un unico lo staff e il modo in cui la gente ci supporta in queste lezioni sono una cosa fondamentale e il modo in cui tu lo motivi e il modo in cui ti segue cioè secondo me il tentativo adesso sarà quello appunto di assicurarsi che ci sia questa fedeltà e questo rapporto forte che le venga supportata davvero e penso che quello possa essere stato un problema anche della sua campagna elettorale e poi come dicevo prima lei non aveva convinto proprio alcuni dei gruppi che doveva convincere per esempio gli afroamericani nettamente preferivano Joe Biden piuttosto che lei nonostante lei abbia raccontato per esempio in un dibattito delle primarie che Joe Biden aveva votato contro il busing i servizi che permettevano a una come lei di diciamo accedere a una ragazzina nera ad accedere a un tipo di istruzione migliore quindi o a una forma di integrazione insomma lo aveva praticamente classificato come un razzista eppure l'elettorato afroamericano preferiva nettamente lui quindi c'era un problema anche nel modo in cui si poneva con tutta una parte della comunità in questi tre anni lei ha fatto moltissimo outreach proprio rispetto alla comunità afroamericana per esempio in South Carolina quando l'ho vista durante le primarie Joe Biden non andò il giorno delle primarie in South Carolina andò lei e nonostante la folla fosse ben poca questa università nera dove avevano fatto il comizio lei la usò usò quell'evento per fare tutta una serie di incontri con tutti i leader della comunità e quindi diciamo in questi tre anni e mezzo ha curato fortemente i rapporti anche con tutti i contatti che contano ecco per non solo appunto cioè proprio nel partito anche quindi secondo me è una candidata diversa da quella che abbiamo visto allora dovremmo vedere e forse appunto capiremo meglio nel modo in cui anche gestisce sia la sua campagna sia i rapporti con i vari leader ecco quindi la campagna elettorale per le primarie democratiche di Kamala Harris fallisce e lei viene di fatto ripescata diciamo così come candidata alla vicepresidenza da Joe Biden ma appunto come ci hai già detto in alcuni punti finora anche questo ruolo da vicepresidente non le va tanto bene anzi questi due elementi appunto prima le primarie che le vanno malissimo poi la vicepresidenza che viene ritenuta molto inefficace sono i due elementi fondamentali di quella che è la leggenda negativa attorno a Kamala Harris poi bisogna capire se è una leggenda o se è realtà però la fama negativa che si crea attorno a Kamala Harris no il fatto che appunto pur sapendo tutta una serie di questioni sappiamo per esempio che la vicepresidenza è uno dei ruoli più ingrati nella politica americana la vicepresidenza in particolare di Kamala Harris è abbastanza generalmente ritenuta un fallimento o quantomeno no un'occasione mancata ci puoi spiegare perché allora questi giorni è una domanda che sto facendo a diverse persone e una di loro per esempio il politologo Yasha Munk sostiene che ci sono due diverse teorie del perché diciamo questo carisma perché lui pensa che Harris in realtà sia carismatica però pensa che questo carisma non si sia in qualche modo affatto manifestato e lui pensa che una delle teorie è che la sua vera natura è di moderata nelle primarie e poi anche alla Casa Bianca non sia stata carismatica perché non era se stessa faceva finta di avere posizioni che non erano le sue l'altra teoria invece è che non abbia mai avuto un vero centro politico e quindi magari è in grado di leggere bene un discorso è telegenica però alla fine non ha quella formazione politica ideologica che le può permettere di avere un vero consenso pubblico quando parla e quando esprime delle posizioni politiche e lui mi ha detto io devo dirti che non ho ancora deciso non ho ancora capito quale di queste due ipotesi sia corretta e che forse le sue scelte nei prossimi giorni e nelle prossime settimane mi aiuteranno a capirlo e questa appunto è una delle persone con cui ho parlato ma non è l'unica ad esprimere in fondo questa è innegabile che la sua vicepresidenza non abbia brillato ha avuto problemi anche per esempio quando ho gestito il dossier dell'immigrazione e a un certo punto praticamente la criticarono perché non era andata ancora alla frontiera con il Messico dove c'è un problema il problema dell'immigrazione per gli Stati Uniti è enorme è un problema chiaramente che i partiti non hanno saputo risolvere al congresso passando delle leggi però poi alla fine è un problema che si ripercuote sulle elezioni perché i repubblicani lo usano in questo momento contro i democratici perché ci sono stati negli ultimi anni un aumento degli arrivi e allora secondo alcuni Harris che aveva questo dossier così complicato aveva paura di rendersi impopolare e perciò per mesi non è andata al confine o non si è sposta troppo eccetera ma questo chiaramente si è ritorto contro di lei perché poi quando è stata criticata a un certo punto ha risposto ma non sono andata neanche in Europa però l'immigrazione per gli americani è sicuramente molto più al centro della loro attenzione quindi adesso sarà interessante perché da una parte lei non è la presidente c'è un presidente in carica che è responsabile di tutta una serie di cose a partire per esempio anche se incontra Benjamin Netanyahu il premier israeliano perché sta cercando di giungere ad un accordo per porre fine alla guerra a Gaza e questa è chiaramente una priorità di Biden di cercare di farlo prima della fine della sua presidenza ma anche per esempio l'immigrazione e molte altre cose sono tutte sotto i riflettori quello che fa il presidente Biden inciderà sulla campagna elettorale anche se lui non è in corsa per un secondo mandato ma è Harris ad essere in corsa quindi sarà interessante vedere come cercheranno di gestire questa situazione anche se loro appunto come dicevo prima danno questo messaggio di continuità ecco senti vorrei farti una domanda un po' di fantapolitica diciamo così però è una cosa che si è detta abbastanza in questi giorni in queste settimane dopo il dibattito in cui c'è stata questa campagna crescente di pressione per il ritiro di Joe Biden ed è stato che Joe Biden in un modo o nell'altro non sappiamo se volutamente oppure no non abbia nel corso della sua presidenza valorizzato a sufficienza la sua vicepresidente non abbia valorizzato a sufficienza Kamala Harris questa peraltro è una cosa che hanno detto anche alcuni suoi ex collaboratori e diciamo così la dietrologia che si è fatta su questa cosa qui è che Joe Biden non abbia voluto valorizzare a sufficienza la sua vicepresidente per evitare di crearsi un concorrente in casa per evitare di avere lui che era anziano fragile lui che era evidentemente un candidato più debole rispetto a quanto non fosse nel 2020 per evitare di avere di fianco come vicepresidente una persona invece vitale talentuosa di più di 20 anni più giovane di lui e quindi insomma era meglio avere una Kamala Harris un po' più scarsa al suo fianco in modo da rendere un po' più facile la sua ricandidatura in modo da dire guardate qui non c'è nessun altro che possa fare questo lavoro devo farlo io per forza è una cosa che è circolato ovviamente è appunto fantapolitica quasi una teoria del complotto però volevo chiederti se secondo te ci sono degli elementi di realtà e se insomma quanto meno Biden avrebbe potuto valorizzare un pochino di più Kamala Harris in questi anni di vicepresidenza io penso che lui voleva ricandidarsi e penso che lui era convinto di poterlo fare e questo indipendentemente da Kamala Harris secondo me questo è Joe Biden Joe Biden voleva correre per un secondo mandato anche se all'inizio quando vinse le primarie e poi anche la presidenza aveva detto di essere una figura che avrebbe traghettato diciamo verso il futuro anche il partito e quindi verso un futuro anche di volte più giovani secondo me lui si era convinto di essere la persona più qualificata e più adatta a battere Trump e a diventare presidente a continuare diciamo su questa linea ed effettivamente la sua esperienza è chiaramente superiore a quella che ha Kamala Harris o a quella che hanno tanti altri in un mondo appunto complesso ma è anche un uomo di un altro tempo che vede le cose in prospettiva e che quindi secondo me sentiva di avere questo ruolo questo dovere quasi ecco di continuare di battere Donald Trump perché una volta l'aveva battuto secondo me sì sicuramente aveva il timore che Kamala Harris non ce la potesse fare e una delle cose che ha chiesto una delle cose che sono state fatte è stata di vedere se nei sondaggi Kamala Harris poteva andare meglio di lui ma lui a lui non bastava questo lui voleva che si dimostrasse che lui non poteva vincere questo quello che ha detto nella famosa conferenza stampa al summit della Nato i giornalisti gli hanno chiesto ma se si dimostrasse che Kamala Harris può vincere lei si ritirerebbe e lui ha detto no bisogna che mi dimostrino che io non posso vincere che io non ho chance di vincere quindi quella risposta lì sembra suggerire che il punto non è soltanto il vicepresidente ma il punto era lui lui che voleva correre e infatti in quest'ultima fase come dire lui è stato visto come questo questo uomo testardo ecco che non voleva accettare che non voleva vincere finché poi alla fine pur con rabbia pur con un senso anche di essere stato tradito da tutte le persone con cui aveva lavorato in fondo secondo me ha capito quello che gli altri avevano capito molto prima di lui e quindi ha ceduto e quindi ha preso questa decisione una volta presa questa decisione ha passato il testimone lui ha sempre detto che credeva in lei io non so cosa sia la verità e se poi alla fine veda in lei dei limiti enormi però il fatto che le ha dato l'endorsement sicuramente indica anche indubbiamente anche una questione di tempi di tempistica però c'è anche una questione di lui è un uomo che la cosa che ha detto che ha scritto in uno dei messaggi non mi dico se è il primo o il secondo nel momento del ritiro ha detto sceglierla come vice è stata la prima decisione che ho preso quando sono diventato candidato alla nomination del partito è la decisione migliore quindi ha difeso anche in qualche modo se stesso il fatto di aver scelto la persona giusta e non una persona sbagliata per quel ruolo quindi sì poi bisognerebbe appunto essere nella sua testa ma dalle cose che ha detto io ho la sensazione che lui si era convinto che aveva senso che lui corresse che lui era la persona migliore più qualificata per correre per diventare presidente oltre che per battere Trump parliamo appunto di Trump dei repubblicani e di come hanno reagito al fatto che adesso non dovranno più correre contro un 81enne fragile ma contro appunto una 59enne piuttosto energica sì allora secondo me da una parte i repubblicani hanno dipinto Kamala Harris appunto come una figura in realtà Trump la chiama la fame Kamala quindi la giuliva che ride sguaiatamente eccetera eccetera e hanno diffuso per esempio un sacco di meme in cui lei dice delle cose un po' strane tipo a un certo punto fa un discorso e dice parla di coconut trees di alberi di cocco mentre parla di persone in un comizio in un contesto molto ufficiale perché era una battuta sostanzialmente e quindi estrapolano anche queste cose queste frasi un po' così a sproposito o influenzate un po' un po' sbagliate ecco che lei tende a dire e le risate il modo di ridere cioè quindi tutte queste meme che proprio la prendono di mira in una maniera molto personale anche molto molto per il suo modo di essere per il suo modo di esprimersi non solo per i contenuti o per quello che ti sta proponendo politicamente quindi da una parte ne hanno fatto una macchietta come qualcuno che in realtà è facilissimo ad abbattere però è chiaro che questo da un punto di vista diciamo così dei social e tutto il resto però dietro le quinte è chiaro che Donald Trump ha dei manager molto seri delle persone che conoscono molto bene il loro lavoro e che sono consapevoli che a questo punto c'è una sorta di Reset allora il candidato non è più Biden e Biden appunto sapevano lo avevano inquadrato avevano fatto campagna elezionale contro lui per tre anni e mezzo di fatto e cioè Trump non ha mai smesso di attaccare Biden per una maniera in una maniera o nell'altra da quando si è ufficialmente candidato la fragilità fisica e poi il declino anche cognitivo sono diventati uno dei temi ma anche le politiche dell'amministrazione Biden adesso su Kamala Harris loro dicono che Kamala Harris è Biden 2.0 quindi sostanzialmente dicono dal punto di vista delle politiche lei è esattamente quello che era Biden quindi non vi piace come sta andando il paese l'inflazione l'immigrazione tutto il resto l'immigrazione in particolare che Kamala Harris non ha saputo gestire quando l'è stata data e quindi questa è la loro retorica però da un punto di vista invece della candidatura è chiaro che c'è qualcosa di un po' diverso perché non è che tu devi convincere gli elettori trumpiani a votare o per Trump o per Kamala Harris quelli votano per Trump e basta il problema dei repubblicani è adesso che Kamala Harris ha sostituito Joe Biden ci sarà un'affluenza maggiore quelle persone che sarebbero rimaste a casa i giovani che non lo avrebbero votato il non lo so le persone negli stati del nord-est a seconda appunto di lei come candidata di come si pone del vice che sceglie potrebbero essere motivati quegli indecisi quell'elettorato non schierato ecco ma anche quell'elettorato democratico che prima era demotivato potrebbero essere attrati da questa figura che si sta presentando come la procuratrice contro il criminale questo secondo me è il dubbio adesso ed è chiaro che è un totale cambiamento per chi deve formulare anche dei messaggi che mirano all'elettorato indeciso perché quello è quello che può fare la campagna di Trump chiaramente e la campagna invece di Harris dovrà puntare sia a quell'elettorato di Trump sia l'elettorato democratico che era demotivato da Biden e dunque secondo me era sicuramente più facile se rimaneva Biden perché alla convention del partito repubblicano andando e vedendo per questi quattro giorni repubblicani dopo l'attentato Trump era chiaro che si sentivano il vento in pop al primo comizio che c'è stato subito dopo a Grand Rapids dall'altro lato del lago Michigan e li ho visti veramente sembrava un concerto lui è entrato che sembrava Taylor Swift era proprio un momento assolutamente gioioso da parte del pubblico lui è tornato totalmente al suo modo di parlare dopo questa parentesi adesso vogliamo l'unità nazionale quella parentesi si è chiusa molto rapidamente ed è tornato a tutti i suoi temi tipici dei suoi comizi e quindi secondo me quello però era con sapendo che tu hai contro Biden certo i repubblicani già lo sapevano in qualche modo e la campagna del team di Trump già da maggio aveva cominciato a fare circolare un documento internamente che diceva qua adesso Biden se ne va e poi entra in campo Harris quindi avevano cominciato a preparare come dire un piano B ma adesso devono vedere che cosa succede davvero prima di poter mettere in atto un vero piano B ecco peraltro e qui apro e chiudo una parentesi perdonami questi meme in Italia diciamo meme questi meme su Kamala Harris che dice queste frasi un po' sconnesse ma molto divertenti appunto quella sull'albero di cocco che dice cita sua madre e dice che le diceva sempre non è che siete appena scesi da un albero di cocco queste frasi un po' sconnesse divertenti appunto che sono circolate tantissimo online sono sì state fatte circolare dai repubblicani per delle campagne denigratorie ma in realtà sono anche state oggetto di campagne molto positive nel senso che su Twitter su TikTok tante persone anche giovani hanno ripreso questo modo di fare un po' da zia simpatica per passami il termine di Kamala Harris per esaltarla per dire finalmente una candidata un po' vitale un po' interessante insomma diciamo che questo elemento caratteriale di Kamala Harris che a volte sembra un po' fuori controllo è molto vitale molto allegra o è anche stato preso positivamente no? ah sì no però una cosa che ho trovato molto interessante è che uno degli endorsement abbiamo parlato di tutti gli endorsement politici no? e invece c'è stato un endorsement di una cantante Charlie che è questa pop star che l'ha definita ha scritto su Twitter Kamala is Brat cioè Kamala is cool cioè un modo per dire Brat cioè che è il titolo tra l'altro del suo album che proprio in un'intervista poi ha detto sì e lei è una che comunque quando parla sbaglia che magari fa un po' di casino che però è però alla fine è se stessa e quindi c'è questo tentativo di in qualche modo reinventare questa Kamala infatti la sua campagna elettorale cosa ha fatto? Ha cambiato subito sui social il colore del banner e facendolo questo verde acido proprio come l'album di questa pop star quindi è chiaro che c'è un tentativo di reinventare Kamala Harris di proporla ai giovani di proporla alle minoranze di proporla a tutta una serie di gruppi che avevano mostrato che una ricandidatura di Joe Biden non li entusiasmava e quindi c'è questo tentativo il fatto di dire delle cose un po' insensate di essere un po' più leggera di fare una stupidaggine poi dopo è quasi un segno invece di autenticità che può essere valorizzato per questo dico la narrativa la narrazione il modo in cui le cose vengono come dire inquadrate è molto importante e quindi c'è un tentativo adesso di inquadrare tutto quello per cui lei è stata bersagliata in modo brutale e farlo diventare cool non lo so se ci riescono cioè adesso ci sono su tiktok queste immagini di lei che parla in pubblico tutte quante colorate di verde acido come questo album di questa cantante cioè magari sì magari riesce a motivare una parte del pubblico è chiaro che è un messaggio mirato da alcuni non è che è tutta la sua campagna che funziona così perché poi agli stati industriali del nord-est non è che si può vendere così però può funzionare su dei gruppi di elettorato perché lei deve cercare di adesso di riconquistare tutta questa tutto questo elettorato che era demotivato senti a proposito di stati industriali del nord-est una delle questioni di cui si è parlato tanto in questi giorni è che adesso ovviamente Kamala Harris dovrà scegliere il suo candidato o la sua candidata vicepresidente e diciamo che il range delle scelte plausibili o almeno delle scelte che vengono ritenute plausibili dai media è tutto composto da una lunga sfilza di maschi bianchi cinquantenni governatori di qualche stato della profonda America no? Sì non solo però maschi bianchi cinquantenni cioè il fatto che appunto sono maschi bianchi cinquantenni alcuni di loro hanno anche fatto qualche battuta tipo il governatore del Colorado Jared Polis ha detto e gli hanno chiesto ma tu sei in Lizza per essere vice eccetera e lui fa certo se avete bisogno di un uomo pelato cinquantenne adesso una cosa del genere del Colorado sì eccomi sono pronto però per il momento non ho ricevuto nessuna telefonata e secondo me è chiaro comunque che c'è il tentativo secondo me di capire chi può affiancarla sia come uomo sia anche come qualcuno che proviene dagli stati che contano perché lei è californiana infatti per esempio Gavin Newsom non ha nessuna chance di essere scelto e servirebbe forse qualcuno tipo Ben Shapiro il governatore della Pennsylvania che è appunto uno stato cruciale e qualcuno suggerisce e ho parlato anche con un altro politologo che diceva io vorrei tanto che questo ticket sfidasse veramente il concetto che hanno gli americani della presidenza perché non sceglie Gretchen Whitmer due donne in questo ticket Gretchen Whitmer la governatrice del Michigan che è un altro stato comunque cruciale insomma ci sono tanti nomi che girano e quindi sì sicuramente sarebbe una cosa senza precedenti avere due donne nel ticket mi sembra assai improbabile però è anche un modo per cercare di sicuramente di ribilanciare puntando secondo me agli stati in bilico perché poi la presidenza si vince così quindi io mi aspetto che scelgano qualcuno che venga da lì poi magari per esempio c'è anche Andy Beshear che ha fatto un endorsement fantastico i Kamala Harris e lui è il governatore del Kentucky e il Kentucky non è mai stato in gioco né probabilmente mai lo sarà in questa elezione perché è uno stato che va ai repubblicani per cui la sua scelta insomma non porterebbe uno stato in bilico ma è un personaggio molto carismatico o che ne so qualcuno dice anche Pete Buttigieg che è il ministro dei trasporti e che era in lizza in corsa contro Kamala Harris e contro Biden nelle prime del 2020 poi è diventato ministro dei trasporti e lui estremamente brillante però anche lì non lo so insomma devono fare secondo me una serie di calcoli di come questa persona la può aiutare veramente e come può controbilanciare il fatto che comunque Trump ha scelto appunto ha puntato moltissimo appunto sugli stati del nord-est e sul Michigan su Wisconsin sulla Pennsylvania anche per chiudere completamente lì una via del Blue Wall insomma una via di vittoria attraverso quello che una volta era il Blue Wall e che ha funzionato per Biden consentandogli di vincere nel 2020 ma che invece dove invece Hillary Clinton aveva perso nel 2016 e infatti non è un caso che domani all'indomani proprio 48 ore dal ritiro di Biden Kamala Harris vada proprio in Wisconsin a Milwaukee per un comizio perché comunque questo è uno degli stati cruciali anzi Hillary Clinton era uno degli stati dove non era andata e colpevolmente pensando di averlo in tasca e poi alla fine aveva perso proprio per quello quindi c'è secondo me questo senso anche appunto del passato io penso che anche nel modo in cui lei penserà al suo vice a come gestirsi penserà anche a quello che agli errori di Hillary Clinton inevitabilmente da ultimo vorrei farti la domanda da 100 milioni di dollari diciamo così che è una domanda a cui ovviamente in questo momento nessuno può rispondere né Kamala Harris né Donald Trump davvero nessuno però è una domanda che secondo me dopo che abbiamo parlato così a lungo di Kamala Harris tutti si stanno facendo e tutti se la stanno facendo probabilmente da qualche giorno ed è tutto bello gli alberi di cocco tutto bello la procuratrice tutto bello gli endorsement e così via ma Kamala Harris ha davvero delle possibilità in queste condizioni politiche di battere Donald Trump sì è la cosa che ovviamente io ho chiesto a un po' di persone subito dopo il voto e loro mi hanno detto di sì cioè loro pensano che Kamala Harris possa vincere contro Trump ora io penso che abbia anche molte difficoltà perché comunque la campagna di Trump ha mostrato tutta la sua forza ha mostrato i muscoli però penso che molto dipende da quel gruppo di elettori in mezzo che trattavano questa elezione come una scelta tra il male minore quando erano Biden contro Trump il punto è se Kamala Harris riesce a motivare l'elettorato democratico e a fare apparire questa non come un'elezione insomma e neanche soltanto un'elezione contro Trump ecco ma come un'elezione in cui loro sono motivati a votare per lei certo il suo passato non ci suggerisce che lei sia la candidata più giusta e fa temere molti che queste vulnerabilità e questi limiti semplicemente tra poche ore rispetto al momento adesso in cui stiamo parlando si manifestino in una maniera tale che tutti quanti diranno non vincerà mai però sicuramente per la prima volta in questa campagna elettorale democratica c'è questo senso di possibilità possibilità non significa che funzionerà ma c'è un senso di possibilità si può potrebbe potrebbe vincere potrebbe farcela mentre invece c'era il senso che Biden non ce l'avrebbe fatta che quell'elezione era già persa nel momento in cui era un Biden contro Trump quindi appunto a meno di 48 ore dopo il ritiro di Biden questo senso di possibilità si è creato quanto durerà come lo gestirà Kamala Harris come lo gestirà il partito democratico in che modo lo gestirà Trump queste sono tutte cose da vedere l'altra cosa di Trump è che Trump come nota insomma chi lo conosce è una cosa che spesso mi è stata detta Trump tende a darsi la zappa sui piedi tende a fare delle cose che poi lo penalizzano rispetto all'elettorato e questa è una cosa su cui i democratici hanno sempre puntato molto contato molto appunto spesso ripetono che quando lui fa questi comizi in cui chiama gli immigrati terroristi chiama insomma si mostra estremista questo gli renderà più difficile essere eletto e questo aiuterà i democratici però negli ultimi tempi la campagna elettorale dei democratici era sembrata quasi puntare solo su questo cioè sull'autodistruzione di Trump come se questo bastasse quindi secondo me dipenderà molto da quello che lei dimostrerà adesso di avere come dire imparato rispetto al passato però appunto sì devo dire che nonostante un forte scetticismo e un forte rispetto appunto alla sua vicepresidenza rispetto nonostante una consapevolezza dei limiti che può avere però questo senso di possibilità in questo momento c'è prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di Globo è globo chiaccialalpost.it vi ricordo di attivare le notifiche di consigliare questo podcast alle persone cui pensate potrebbe interessare e di diffonderlo sui social e adesso vive una mazza ti chiedo tre consigli libri film podcast serie tv musica che ti hanno ispirato e vorresti suggerire allora mi viene in mente una delle persone con cui ho parlato in questi giorni per cercare di capire meglio anche cosa c'era nella testa di Biden è Franklin Foer voi probabilmente conoscete il suo fratello Jonathan Safran Foer però Franklin Foer è un giornalista che sa Washington del fratello del romanziere e ha scritto un libro che si chiama L'ultimo politico che è uscito recentemente anche per Longanesi che secondo me è super interessante e oggi appunto una delle persone a cui chiedevo se chiamare Harris può vincere o no era proprio Franklin Foer per cui mi viene di consigliarmi lui poi fammi pensare beh sicuramente visto visto dove stiamo andando un'altra cosa sempre elettorale che ti consiglio è Leggi Americana che è il libro di J.D. Vance è il suo memoir che ormai è diventato un must bisogna leggerlo c'è questa questa figura della nonna in particolare questa nonna del Kentucky che aveva 19 pistole a cariche nascoste per la casa di cui lui ha parlato peraltro nel suo discorso alla Convenzione Repubblicana elogiando appunto questa nonna e poi in una sorta di momento caramba che sorprese è arrivata la mamma di J.D. Vance pure lei raccontata in questo in questo memoir e la mamma era alcolizzata e per diciamo lui infatti veniva cresciuto dalla nonna da ragazzino in questo paesino dell'Ohio e questa mamma però da dieci anni non beve più e quindi improvvisamente è apparsa questa mamma sul grande schermo è sedita sul palco e questa donna la troveremmo siccome a gennaio fa esattamente dieci anni da quando ha rinunciato all'alcol e Vance ha proposto a Trump di fare una grande festa alla Casa Bianca per l'insediamento per festeggiare questi dieci anni e quindi secondo me è leggia americana di J.D. Vance che è scritto peraltro prima che fosse Trumpiano prima quando appunto anzi in quei tempi lui criticava profondamente Trump è un'altra cosa da leggere ed è anche una serie tv su Netflix peraltro e poi sempre per restare in tema forse insomma l'autobiografia di Kamala Harris a questo punto anche perché secondo me poi è interessante sarà interessante da leggere anche perché era un libro che era stato scritto in un periodo diverso in cui lei correva sicuramente sognava la presidenza eccetera ma in un contesto molto diverso se poi per me non avrebbe mai potuto immaginare le circostanze come le circostanze avrebbero portato forse proprio a quello che lei voleva quindi secondo me può essere un'altra lettura interessante Viviana Mazza grazie grazie a te grazie a te